noi siamo quelli che diamo via a un giocatore come Portanova Portanova che mette i coglioni più di tutti in campo in questo Genova Genova batte Torino 1-0 e ci godo e quello che ribadisco sempre nei miei video è che Juric è un grandissimo allenatore però caro Juric invece di rompere il cazzo alle squadre grandi Inter, Milan, Napoli eccetera 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 queste sono le squadre alla tua portata e tu contro queste squadre non fai un cazzo è sempre stato così per quello io vi odio io odio questi allenatori qua che con le grandi fanno tutti gli schemi possibili e immaginabili con le piccole dove ti servono i punti i punti non fai un cazzo non fai acqua alla pippa in dieci 35 minuti del primo tempo in Genova in dieci non si è riuscito neanche a pareggiare la partita per tutti quelli poi che hanno criticato Blesin sette pareggi di fila sì sono sette pareggi di fila sono sette punti no zero punti sette punti più tre sono dieci punti quindi ragazzi le chiacchiere stanno a zero è inutile stare a criticare Blesin ha fatto dieci punti ed è ancora imbattuto ok datemi gente come Manolo Portanova datemi guardala quanto è bello datemi gente come Manolo Portanova noi vogliamo in campo gente che suda la maglia che ha voglia di lottare e che vuole prendersi il parco scenico tutto per sé bravo Manolo bravo Portanova questa è gente che fa per noi e l'abbiamo dato via per dieci milioni per Rovella poi non si sa questa è gente che fa per noi udite udite gente Juric fa il grande con le grandi e con le piccole si cacca sotto mi fa piacere mi fa piacere per il Genova io vi saluto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale bella meglio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.